Posso raccontarle un ricordo? Mia madre diceva sempre a me e a mio fratello di finire il pane perché ci sono dei bambini che muoiono di fame nel mondo. Non capivo come uno sprecando pane si potessero sfamare dei bambini dall'altra parte del mondo. Avevo un amico d'infanzia, Philibert. Sognava di diventare uno scavatore di buchi. Spero che ci sia riuscito. E in che modo questo potrebbe essere una testimonianza di successo? Ci arriverò. Allora lui, Philibert, ha scavato un buco in fondo a un pozzo che avevamo scoperto. Philibert! Guarda cosa ci ha regalato la fornaia. Philibert! Philibert! Ah, eccoti! Credevi fossi in America? Tutto qui è minuscolo il tuo buco. Beh, è più grande di te. E se non ti sta bene, fanne uno da sola. Ma se non è ragazza? Allora aiutami. Ma se non è ragazza? Dici così perché non vuoi sporcarti? Sono una ragazza. Silenzio. Vediamo se funziona. Allora aiutami. Allora aiutami. Grazie a tutti. Grazie a tutti.